Io penso che fra un po' di mesi e nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Allora prima, prima che voi lo sapeste dalle solite foto rubate davanti alle cliniche, dalle ipotesi, queste cose qui insomma, di cui i personaggi pubblici sono bersaglio, facile e prevedibile, ho voluto essere io a dirvelo così, non tanto tranquillamente, ma insomma a dirvelo proprio direttamente a voi che siete le persone più care che ho, a parte la mia famiglia.